musica 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 me li sto un po' accumulando wow il winchester ho trovato winchester il winchester il fucile a pompa di mv1 oh nel gruppo non one shot però nel gruppo i danni li fa eh ma è allora ma non mi posso lamentare eh vieni qua andrea te la fai a liberarti di quelli intanto la sotto perchè eh stanno spawnando e questo è il problema ah aspetta 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 teniti teniti quelli la falli al cerchio io mi accumulo questi e poi tu ti accumuli pure qualità ok poi scendi me li prendo io e vediamo come riesco a fare allora un attimo mi sto accumulando questi qua ok qui io ce l'ho tutti un attimo ok ok scendi ok andrea vieni qua vieni qua ok vai via ok ce l'ho tu hai miei tu hai miei tu hai miei eh vai 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 ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho va bene va bene va bene dimmi quando sei pronto che inizi ad ammazzare non dicendo più eh siamo già un'ora e un quarto eh siamo già? un'ora e un quarto di video ah e i giga che se ne vanno nell'hard disk eh ci ok vector io ho paura di avanzare troppo perchè credo che poi gli insommi non mi seguono ah e vengono da te scaracca va bene bo double tap eh poi cosa mi può servire electric c'è l'ho volturadi non lo prendo ah ma qui c'è un teddy bear aspetta aspetta ah davvero farò farò l'ho visto a caso un attimo mi sto prendendo il mio il kick così ah giusto pure io il mio il kick devo prendere ok me lo prendo e poi ci scambiamo che faccio una cassa una sola ne posso ah no aspetta se ne ammazzo qualcuno però eh si però se ne ammazzo no eh ti spawnano la sotto vai fattene una vedi come ti va a caso mai li ammazzo mhm inizia a scendere tu tranquillo mp7 scratch e vector dai vabbè ok me ne faccio una tenere prendili su sono tutti in fila eh vabbè prendetemi bravo sono ancora in avanti siamo nel mezzo del round se facciamo così lo possiamo fare però è pericoloso oh i fucili a pompa sono la mia ragione di vita eh lo spasso dai dai ma che spasso questo c'è a me è automatico dai vattene a fare un'altra è automatico lo spasso what the fuck ah davvero si però non c'è colpi cioè finisci subito lo stand mi faccio l'ultima vediamo va bene in caso mai spari un altro po' no 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 ok eeeh posso spara un po' spara un po' vai perfetto vai ne uccisi tre mi stanno respawnando tre occhio andrea ok qui sta spawnando c'è una alla finestra che sta avvenendo da te perfetto si eh no io non vorrei cambiare winchester però magari preferisco cambiarlo perchè un po' io occhio andrea si eh spara spara qua il g3 spara qua il g3 però mi ha fatto fare un sacco di punti eh vai 950 giusti giusti cazzo è qui vai ancora i winchester pss faccio altri punti spara dietro spara ancora spara spara va bene vai finchè non trovi un'arma buona mpl vabbè non è non è buona ma non è neanche malaccia e continua continua fatene un'altra i punti i punti come salgono buono ok l'MP44 va bene ma facciamo il devasto posso uccidere? ok mi chiede il devasto veramente madonna oh sali sempre occhio andrea un attimo mi prendo un po' di munizioni e punti sali tutto in alto un po' di punti e salto ok oddio no no mi hanno incastrato no ma dio quello che spano da terra mi ha chiuso a triangolo andrea triangolo no non l'avevo considerato ce l'hai il quick? ah si ma un attimo ok si si lì lì un po' li raggruppo si vabbè lo sai quanto tempo hai cioè io mi sono fatto tutto no non vedo non vedo la la scritta sopra vai ce la fai ce la fai ce la fai vai e che cazzo perfetto perfetto via via cioè io mi sono fatto tutte quelle casse alla fine per perdere l'arma oh no oh no bene ma le escape che sto facendo io sono fantastiche ma tu sei l'nvp in questa partita no ma tipo mi prendono sempre solo che tipo mi prendono una volta una alla volta quindi non ha un problema ma va bene se mi metto a dormire sul letto povero fra fra si sente scluso no sai stai esultando la mezz'ora e io sto ancora aspettando di risponare ma questo è francesco francesco si sente solo lasciami fare i punti quanto ti costa quanto ti costa 16.500 vai vai vediamo vado a fare no una cassa non mi serve oh muori va bene no vediamo cosa c'è sopra uh sono responato che miracolo vai fra fatti la cassa veloce ai 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 cosi ho trovato? 666 fatti un'altra fatti un'altra no muoio prima mi muoio prima mi muoio prima di farla vai sali sto prendo su allora vediamo cosa c'è c'è una beata cos'è? arrivo un caricatore fa ucciderne ho la super speed pexol player che cos'è? un attimo oddio questa è la porta è la porta andrea questa non so cosa ah questa è la porta del credo ciao andrea io scendo di nuovo sotto c'è una pozione cosa c'è oddio ok no mi sento troppo lento non ho più la super speed andrea mi sento troppo lento a girare io devo stare attento ai punti marroni bella bordello ma perchè a me le insta kill scusa mi valgono come se se non c'è non c'è un limite dammo buono 30 secondi dimmi quando stanno per finire così smetto di sparare a caso mi stavo riandando a terra mi stavo riandando a terra sono finita andrea ok dai che riesco forse a ma no non ne puoi avere due qua dai eh si si bugono ah dopo dopo facciamo una cosa nuova diamo un voto alla mappa diamo un voto alla mappa vabbè sonno sonno ecco il suo voto ecco il suo voto come sono scappato dalla andrea non mi morire tu perchè se mori tu finisce la partita no tranquillo 202 zombie rimanenti sei già morto tu? no no però poi vado nel panico se mori tu c'è un perk che che non so cosa fa il perk della porta il perk della porta andrea hai preso quello della porta il voltur cioè quello lì alla fine no paranormal potion si chiama e cosa fa? non lo so c'è strossitto che fa tutti i player cioè dà gli effetti a tutti i player a me non mi è spuntato però che simbola? non ti spunta ma è tipo un fantasma oddio oddio uno è buggato uno stava camminando dentro il pavimento vabbè eccolo eccolo può darsi che uno da morto può sparare può darsi oppure qualcuno da morto prima che io morissi ovviamente oppure oppure ti uccide gli zombie che torno e poi ti rianima oppure si in possessa di uno zombie non credo come fare animarti ma tipo io lo sto lo sto usando ma non mi sto impossessando di nessuno proprio no quando sei morto ah quando son morto non lo so beh sono teoria andrea questa al prossimo round guarda sperimento io no se ci arrivi questo è 500 no più cosa what? come? oddio c'è la fine eh è il game è il game? non andare lì ci mori giusto la giovane ha il fratto io fido i colpi non ucciderli andrea ah eh ormai no non non è l'endgame c'è il teleport vero? credo sia eh vedi se puoi saltare il link c'è il bowie no c'è il pack a punch c'è il pack a punch vedi se puoi saltare il link del teleport non lo vedo il link del teleport veramente stanno arrivando andrea need to activate teleport pad cosa devo fare? provo a vedere quello scheletro quale scheletro? quello davanti a te a destra davanti a me a destra regà regà non ci ho trovato endgame endgame cinquantamila ok fai punti andrea anche se dovrei potenzionare chiedi un attimo giù c'è una parte viola qui francesco guarda che arma ho preso ok si vado io vado io ci sono già ok ok tu da lì sopra ti puoi trasportare qua sotto va bene così casomai muori là sotto perchè stanno morendo tutti gli zombie? ah non lo so forse perchè non hanno io non sto facendo niente oddio forse quando passano ah forse perchè si stava linkando il teleport il teleport giusto? il teleport eh si è l'unica ragione è finito di nuovo i colpi andrea non li uccidere un attimo ok vabbè mappa abbastanza noiosa andrea si ho detto che il mio voto è sonno no no per me non è noioso anche perchè sono l'unico che non è andato cioè è andato una volta solo a terra e magari sta giocando da più tempo quindi non mi sembra noiosa tipo per francesco è andato a terra 29 volte allora seriamente però non dovete mettere il fatto che voi siete andati a terra no infatti come voto come voto come voto dovete dire seriamente secondo voi la mappa come vi sembra ovviamente si certo ee fare una critica una critica argomentativa io già la posso dare visto che ormai l'abbiamo finita quasi la mappa allora andrea andrea aspetta no no la diciamo dopo alla fine alla fine alla fine almeno alla fine almeno si 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 io dico solo che tempo run durava di meno eh si 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 tempo run non è una fine appunto ah no andrea è vero cosa ci sono gli orsetti nascosti ah vero però quelli attivano la musica mi sa la musica buona eh si però c'è il copyright che è il copyright ecco il copyright ta 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 marco c'è tutti e due gli zombie andrea tre un'ora e mezza un'ora e mezza tu ti immagini se dopo quest'un'ora e mezza vedi la registrazione che si bianca oddio quando posso ucciderli vabbè vado ma sono venuto un attimo a farmi un po' di punti andrea non li uccidere tu ok ok vado vado double tap finché altra era venuta anche per prenderla double tap ah in realtà no me ne sono accorto mentre scendevo e ho detto double tap prendiamolo no le double ahiaiaiai ho preso il mule kick sapete com'è se è quasi il diciottesimo round e con le armi normali no andrea è inutile fino a qua a meno che cioè io ho trovato lo zeus soltanto quella prima volta però non l'ho più trovato ma mi sa che beh magari avere lo zeus se avessi lo zeus guarda farei ammazza andrea eh ammazza ma posso? si si ok grazie 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 grazie